Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, è terminata allo stadio Bernabeu la partita del Real Madrid Real Madrid che affrontava l'Union Berlin e ragazzi ci ha voluto il solito episodiuccio a favore nel finale per sbloccare questa partita perché il Real non era stato in grado di sbloccarla prima, un po' per meriti dell'Union Berlin sì, ma anche per parecchi demeriti a mio avviso del Real Madrid che aveva anche colpito due legni, è vero, però ragazzi il Real Madrid faceva fatica a girare in porta in questa partita arrivava lì davanti, arrivava, però poi non concretizzava nulla, mi sembrava un Real Madrid un po' superficiale quest'oggi come che, non dico non ne avesse voglia, ma come che avesse la testa un po' altrove, ho avuto questa sensazione qui e in effetti nel weekend poi c'è il derby contro l'Atletico, quindi un motivo ci sarebbe anche per essere un pochino magari distratti però una squadra come Real Madrid e con giocatori di esperienza come quella del Real Madrid mi fa anche solo strano pensare a una roba del genere, però vi giuro, ho avuto quella sensazione proprio di di essere in campo perché dovevano essere in campo, non lo so, ho avuto questa sensazione qua poi c'è un giocatore, ragazzi, che a me ogni volta che vedo giocare mi casa tantissimo che Modric, quando fa quei passaggi d'esterno, quando cerca le conclusioni da fuori ma ha fatto piegare il telefonista di Sky che ha detto è un buon tiratore un buon tiratore Modric e chi sarebbero gli ottimi tiratori? allora no, perché Modric che sia un buon tiratore mi sembra un po' riduttivo e poco dopo abbiamo pensato, ho fatto il portiere dell'Union Berlin con questa conclusione da fuori che secondo me avrebbe colpito la traversa, però il portiere è stato bravo a deviarla meno bravo era stato sul calcio d'angolo dove Rudiger di testa la spara sopra la traversa perché lì bastava indirizzare in porta e sarebbe stato gol perché il portiere era andato a farfalle però l'Union Berlin di per sé davanti si è fatta vedere poco o nulla ricordo giusto all'inizio partita direi un tiro mediamente pericoloso ma basta, non ricordo nient'altro da parte della squadra tedesca che era a debutto in Champions League che ha fatto comunque una buonissima figura perché poi alla fine ragazzi il gol è arrivato con una palla che rimane lì e arriva Jude Bellingham e alla fine arriva Jude Bellingham a metterla dentro già sentivo esaltare Jude Bellingham per questo gol è fortissimo, sono d'accordo ha iniziato la stagione alla grande però certo non va esaltato per questo gol di per sé perché lì è rimasta proprio la palla lì cioè lì è più fortuna che una questione di qualità del giocatore cioè ragazzi diciamoci le cose come stanno poi mi potete dire però il posizionamento sì sì tutto quello che vogliamo però è rimasta proprio lì e il Real si porta via tre punti e con questo gol di Bellingham il Real si porta via tre punti importanti, importanti senza dubbio per iniziare bene la Champions però ecco mi aspettavo un qualcosina in più sia dal Real che dall'Union Berlin mi aspettavo una partita un po' più scoppiettante invece è stata una partita abbastanza abbastanza noiosetta specialmente al primo tempo è anche vero che mancava un giocatore ragazzi e era Madrid in questo momento se tu levi quel giocatore lì è come toglieri mezza squadra sto parlando di Vinicius Junior Vinicius è un giocatore ragazzi che fa tutta la differenza del mondo è un giocatore in questo momento clamoroso è un giocatore che ti salta l'uomo che ti crea occasioni e quando non c'è Real Madrid fa più fatica fa molta più fatica per quanto riguarda l'Union Berlin ho visto in campo con piacere dico con piacere perché così significa che non lo vedo in campo con la mia Juve Leonardo Bonucci che ha quasi rischiato in un intervento di causarsi un autogol però l'ha intercettata bene e ha fatto una discreta partita secondo me ha fatto qualche errore di impostazione qualche errorino però secondo me il suo 6 oggi se lo porta a casa tutto sommato vi dico la verità mi ha fatto un attimo strano vederlo giocare con l'Union Berlin però che bellezza sapere che non è più nostro che bellezza che bellezza tra l'altro come al solito il vizio di protestare non se lo leva mai oggi c'è stato un fallo netto su direi proprio Bellinga e lui è subito a protestare con l'arbitro cosa protesti? è netto l'ha preso cioè sei a due metri come fai a non vederlo? niente questo vizio non se lo leverà mai però ecco bisogna essere obiettivi ha fatto una partita mi ha avviso da sei tutto sommato e io credo che i tifosi dell'Union Berlin possano comunque essere orgogliosi della loro squadra perché comunque la partita al debutto al Bernabeu contro il Real Madrid perde un a zero per giusto un episodio io penso che possono essere sicuramente soddisfatti soddisfatti poi certo esci con zero punti però esci con zero punti dal Bernabeu ha fatto bene Ancelotti a mettere in campo Cross a mettere in campo il Pacarito Valverde secondo me scelte azzeccate sono Tony Cross è una garanzia Pacarito Valverde è un giocatore che piace che piace tanto sono giocatori importanti ragazzi il Real Madrid ha un arsenale di giocatori quello che mi sorprende è veramente la difficoltà che ha avuto un po' Real Madrid senza Vinicius non mi aspettavo facesse comunque così poco lì davanti ecco che poi ripeto poco però intanto aveva preso due legni quindi questo comunque va detto e io vi dico la verità mi avrebbe fatto mi piacere avesse segnato José Lu e non e non Bellingham però Bellingham è veramente un bel un bel giocatore veramente un bel giocatore e ci mancherebbe quello che è costato ci mancherebbe però no no è veramente un bel un bel giocatore sapete che a volte le cifre poi non non assicurano un certo tipo di qualità e rendimento quindi complimenti complimenti a Bellingham perché porta tre punti dalla parte del Real è importante ragazzi io detto ciò vi do appuntamento domani scapo lavoro domani commento tiraspol Roma sono curioso di vedere quello che combinerà la Roma di Murigno dopo aver rifilato un bel po' di pappine all'Empoli sono proprio curioso anche di vedere che squadra mettere in campo sono molto curioso un forte abbraccio iscrivetevi al canale diffondete il verbo e Carletto incredibile l'episodio sempre ma è così è così l'ho sempre detto ragazzi ci sono delle squadre che in Europa hanno sempre quell'episodio proprio nel DNA non c'è niente da fare un forte abbraccio ciao